Riprendiamo adesso la lezione sulla rappresentazione dei numeri e dell'informazione in generale continuando dal punto in cui eravamo arrivati alla lezione precedente, ossia l'analisi del complemento 2 come rappresentazione dei numeri interi relativi. Quindi ci ricordiamo che la chiave del complemento 2 è quella di utilizzare per la potenza del bit più significativo un valore negativo anziché un valore positivo e questo come abbiamo visto fa sì che la sommatoria classica in cui abbiamo una somma di varie cifre a con i per 2 elevato a i, anziché essere una sommatoria fatta di tutti i numeri positivi come sarebbe di 2 alla i normalmente, in realtà uno di questi può essere negativo, quindi abbiamo una sommatoria con un termine che può essere presente se il bit più significativo vale 1 e quando è presente è negativo oppure può essere assente quando il bit più significativo vale 0 e allora in questo caso non dà un contributo negativo e poi tutti gli altri termini chiaramente sono tutti positivi come già erano e quindi questa somma di un termine eventualmente presente sicuramente negativo e una serie di altri termini che sono sicuramente positivi possono dare un risultato che a sua volta può essere positivo o negativo e abbiamo cominciato a vedere la volta scorsa una apparente stranezza data dal fatto che se io faccio delle operazioni usando il complemento 2 con dei numeri quindi che immagino codificati in complemento 2 ma le operazioni vengono svolte usando gli stessi criteri, gli stessi meccanismi che usiamo per il binario puro, quindi per i numeri esclusivamente positivi, allora per magia, per fortuna in realtà per matematica dicevamo il risultato viene giusto, viene corretto. Quindi questo adesso lo vediamo meglio e il motivo principale per cui effettivamente i numeri complemento 2 sono la rappresentazione più utilizzata all'interno del calcolatore. Vediamo meglio, prendiamo altri due, l'affermazione in generale e poi facciamo altri due esempi un pochino più articolati. Essenzialmente questa slide ci dice che tutte, nonostante noi abbiamo un bit di segno, un bit più significativo che in qualche modo mi rappresenta il segno perché dà la somma del termine negativo, noi possiamo applicare le stesse regole che applicavo sul binario puro per fare l'operazione di numeri in complemento 2, quindi somma e sottrazione li posso fare direttamente così come se lavorassi con numeri in binario puro, il che vuole dire che i circuiti elettrici, elettronici che ci sono dentro il calcolatore che lavorano con i numeri in binario in complemento 2, sono esattamente gli stessi, quindi non serve un circuito separato o non serve progettare dei casi particolari come saremmo stati costretti a fare con il modulo segno, quindi più semplificato perché è lo stesso identico circuito che è in grado di trattare sia numeri in complemento 2, sia numeri in binario puro senza saperlo. Ovviamente il circuito non sa che numeri sta trattando, noi programmatori in qualche modo lo dobbiamo sapere perché dobbiamo sapere come interpretare l'operazione, perché questa operazione che abbiamo fatto prima, che per noi era rappresentata in complemento 2, quindi non meno 7 più 5, ma se qualcuno mi avesse detto che questi numeri sono in binario puro, avremmo detto che l'operazione era 9 più 5 e il risultato era 14, quindi in questo caso chiaramente questa operazione di destra assume che i numeri siano in binario puro, mentre invece l'operazione di sinistra assume che i numeri siano codificati in complemento a 2. In entrambi i casi l'operazione ha senso, è corretta se portata avanti interamente nella sua rappresentazione. Nel caso del binario puro chiaramente 9 più 5 è 14, c'è un risultato corretto perché non siamo caduti in una condizione di overflow, quindi il risultato è ancora rappresentabile su 4 bit, non abbiamo nessun riporto in uscito dal quarto bit e quindi l'esultato dell'operazione in binario puro è corretta, ma anche abbiamo visto lo è il risultato dell'operazione in complemento 2. Se vogliamo vedere qualche esempio un pochino più complicato, proviamo a fare un paio di somme in complemento 2 e vediamo che cosa viene fuori. Prendiamo questi numeri, ad esempio, che sono proposti sulle slide, non sappiamo quanto valgono in decimale, ma non ci interessa, noi dobbiamo fare questa somma, ci viene detto che i numeri sono rappresentati in complemento 2 e quindi noi li trattiamo dal punto di vista dell'operazione come se fossero numeri in binario puro, quindi 0 più 1 fa 1, 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1, quindi 1 più 0 più 1 fa 2, cioè 0 con il riporto di 1, questo riporto qui, lo devo sommare, 1 più 1 fa 0 di nuovo con il riporto di 1, 0 più 0 più 1 di riporto fa 1, qui non ho nessun riporto da riportare, quindi ho semplicemente un 1, un 1 e un 1. Quindi ho fatto questa somma che mi dà questa codifica, la possiamo riportare qua in bella, sullo slide mi dà questo valore. Allora, questa operazione qui ci dicono che l'abbiamo fatta tra numeri che sono rappresentati in complemento 2. Allora, quanto valgono questi numeri in complemento 2? Allora, il primo vale 2 più 4, quindi 2 più 4 che fa 6, 8 non c'è, 16 non c'è, più 32, quindi 32 più 4 più 2 fa 38, positivo più 38. Il secondo numero cosa vale? Allora vale 1 più 2 che fa 3, non c'è il 4, più 4 che fa 7, quindi cominciamo a scrivere 7, poi 8 più 16, 8 non c'è, 16 non c'è, c'è 32, 1, 2, 4, 8, scusate non era 7, è 1 più 2 più 8, quindi 3 più 8 fa 11, ok? 11 c'è l'8, non c'è il 16, non c'è il 32, c'è il 64, 64. 64 più 11, ma poi dobbiamo mettere il contributo del bit più significativo. Il contributo del bit più significativo, in questo caso il bit di peso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi questo bit ha peso meno 2 elevato a 7, quindi meno 128. Quindi questo numero vale meno 128 più 64 più 11, quindi meno 128 più 64 fa meno 64, meno 64 più 11 fa meno 54 meno 53, ok? Quindi semplicemente per leggere un numero in complemento 2 io faccio la somma dei bit e delle potenze di 2, ricordandomi che la potenza più significativa chiaramente va presa col segno meno e poi faccio la somma dei vari contributi. ecco, vediamo il risultato che è venuto fuori. È venuto fuori 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e poi meno 128. Quindi noi abbiamo meno 128, che è il bit più significativo, che rappresenta anche il segno. Poi abbiamo una serie di bit positivi, 64 più 32 più 16 e poi abbiamo un più 1. Allora, cosa fa questa sommatoria? Allora, meno 128 più 64 fa meno 64, meno 64 più 32 fa meno 32, qui le potenze di 2 si comportano bene, per fortuna, meno 32 più 16 fa meno 16, meno 16 più 1 fa meno 15. Quindi l'operazione che abbiamo fatto è questa, 38 che era il primo numero, più meno 53 che era il secondo numero, abbiamo trovato come risultato 15, che per fortuna o giustamente è il valore corretto. Perché noi sappiamo, noi in decimale lavoriamo sempre in modulo e segno. Vedete che qui abbiamo rappresentato un 38 e un 53 che altro non sono che il valore assoluto del numero, il modulo. E poi, visto che è una somma ma uno dei numeri è negativo, allora in realtà devo fare la sottrazione e allora noi siamo abituati a dire che devo fare 53 meno 38, quindi 13 meno 8 fa 5, 4 meno 3 fa 1 e poi il segno che ci devo mettere davanti è il segno del numero il cui valore assoluto è maggiore. Questo è ciò che facciamo noi, perché noi in decimale lavoriamo in modulo e segno. E quando abbiamo fatto il calcolo in binario non ci siamo posti nessun problema di segno, abbiamo semplicemente sommato i bit con la solita regola, diciamo così, a macchinetta. E il risultato è venuto corretto. La stessa cosa capita se devo fare un'operazione di sottrazione. Io devo fare, immaginiamo dovremmo fare questa sottrazione tra questi due numeri che 0010000 sono gli stessi di prima, ok? Adesso perché le slide non sono esattamente allineate, ma sono gli stessi due numeri di prima, quindi sappiamo già quanto valgono, ma facciamo finta di niente. Facciamo la sottrazione questa volta, non più la somma. Quindi 0 meno 1 non si può fare, quindi prendo un 2 e tolgo un 1, quindi avrò 2 meno 1 che fa 1. Poi al bit successivo dovrei fare 1 meno 1 meno 1 che ho dato in prestito, quindi devo prendere a mia volta un prestito successivo. E quindi farò 1 meno 1 meno 1 di prestito più 2, quindi farò 2 e 3, come valori positivi ho 3 e come valori negativi ne ho 2, quindi fa 1. Qui devo fare un 1 meno 0, ma poi devo ricordarmi di restituire il prestito, quindi 1 meno 0 meno 1 fa 0. Poi qua non ho più nessun prestito da pagare sul quarto bit, devo fare 0 meno 1, allora però ho bisogno io di un prestito, quindi 2, 2 e meno 1, e quindi farò 2 meno 1 che fa 1 sul quarto bit. Sul quinto bit avrò 0 meno 0, ma poi devo sottrarre il prestito che avevo dato, quindi ho bisogno a mia volta di un prestito, 2, eccedente questa cosa qua che salta fuori quando non deve, quindi 2, avrò 0 meno 0 più 2 meno 1, che fa 1 sul quinto bit. Qui avrò 1 meno 0 meno 1 che devo dare, devo pagare, e va bene, e quindi avrò 0. Poi avrò 0 meno 1, 0 meno 1 non si può fare, devo prendere un prestito, 2 e meno 1 sul bit successivo, 2 meno 1 fa 1 e sono tranquillo, passo al bit successivo e cosa mi accorgo? Che su questo bit successivo dovrei fare 0 meno 1, ancora meno 1 che ho dato in prestito, devo restituire, 0 meno 1 non si può fare, meno 1 ancora figuriamoci, quindi dovrò prendere in prestito, quindi avrò un'unità 2 e prendo in prestito da un bit, lo metto qua tra parentesi perché sto prendendo in prestito da una posizione che non esiste, ma poi ci ragioniamo. Allora, supponendo di aver preso questo prestito, io farò 2 meno 1 meno 1 che fa 0. Allora, il risultato, cosa è venuto fuori come risultato? In questo caso, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, con un prestito qui che è uscito fuori e non è stato soddisfatto, è un prestito che non sono ancora riuscito a restituire. Vediamo un po', noi sappiamo che questi numeri erano 38, abbiamo detto, e meno 53, quindi fare la sottrazione di 38 meno meno 53, in realtà corrisponderebbe a fare 38 più 53, per la regola dei segni, 8 più 3 è 11, 3 più 5 è 8, 91. Proviamo a vedere in binario questo qui quanto vale, allora questo vale, innanzitutto è positivo, è un numero positivo, perché il bit più significativo che era quello che darebbe il contributo negativo, chiamiamolo pure il bit di segno se vogliamo, è a 0 e quindi c'è una somma di tutti i contributi positivi. Contributi positivi che sono 64, non c'è il 32, c'è il 16, 64, 32, 16, c'è 8, poi c'è 2, 1, fatemi scrivere a 3, per semplicità, quindi abbiamo 4 più 6 è 10, più 8 è 18, più 3 è 21, 1 riporto 2, 2 più 6 è 8, è 1, 9, 91, positivo. Quindi che cosa è successo? Che anche in questo caso io ho fatto un'operazione di sottrazione tra due numeri in complemento a 2, è venuto fuori un risultato binario che interpretato in complemento a 2 mi è dato un valore numerico che guarda caso è giusto perché coincide con il risultato che ci siamo calcolati noi in decimale. Questo risultato è giusto nonostante ci sia stato un riporto, un prestito in questo caso tecnicamente perché stavo facendo una sottrazione. Quindi questo cosa mi dice? Mi probabilmente ci saranno delle condizioni di overflow, ma le condizioni di overflow dovranno essere, diciamo così, ragionate, rilevate in modo diverso. E quindi quali sono le regole per verificare in una somma, lasciamo perdere le sottrazioni per il momento, dove si ragiona chiaramente cambiando il segno, cosa succede se devo fare una somma in complemento a 2? Allora, la regola principale che dobbiamo ricordare è che quando ho dei numeri in complemento 2, il fatto che ci sia il riporto sul bit più significativo è assolutamente irrilevante. Mentre nel binario puro, se io avevo un riporto in uscita dal bit più significativo, significava assolutamente che avevo avuto un overflow e la condizione di overflow la potevo verificare semplicemente andando a verificare se c'è stato un riporto in uscita dal bit più significativo, quindi era un'equivalenza, nel caso del complemento 2 no. No cosa vuol dire? Vuol dire che possono esserci dei casi in cui non si verifica un overflow, scusate, non si verifica un riporto dal bit più significativo, un carry in uscita, non si verifica ma il risultato è comunque sbagliato perché è dato overflow, così come ci possono essere dei casi in cui, come quello che abbiamo appena fatto, si verifica un riporto ma questo non indica che il risultato sia sbagliato. Quindi non dobbiamo proprio guardare quel riporto su bit più significativo perché non ci dà informazione. Cosa dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare i segni. Io sto sommando due numeri e quindi cosa capita? Capita che questi due numeri possono avere lo stesso segno o segni diversi. Allora se io sto sommando due numeri con segno diverso, che guarda caso è ciò che abbiamo fatto nella prima nostra operazione, ho sommato un numero positivo più un numero negativo. Allora in questo caso non si può mai verificare l'overflow. Io ho sommato prima un numero, andiamo a prendere i numeri perché non me li ricordo, 38 e abbiamo fatto sempre giusto. Cioè non si può mai verificare un overflow in questo caso perché sto sommando un numero positivo con un numero negativo. Questo perché? Ma se vogliamo, matematicamente è molto semplice, se io sommo un numero positivo con un numero negativo, il risultato sarà sicuramente maggiore di quello negativo e minore di quello positivo. Allora poiché sia 38 che meno 53 li potevo rappresentare in 8 bit su un complemento 2, il risultato che è compreso tra i due, matematicamente ovviamente se ho una somma di numero positivo e numero negativo il risultato sarà compreso tra i due, sarà a maggior ragione rappresentabile su 8 bit. Quindi non ho mai problemi. Se sommo due numeri con lo stesso segno, con segni opposti, oppure se sottraggo due numeri con lo stesso segno, che è la stessa cosa, allora non mi devo preoccupare dell'overflow. Ci può essere un riporto in uscita, ci può non essere, fa lo stesso. Viceversa, se sto sommando due numeri con lo stesso segno, quindi un positivo più un positivo e ne faccio la somma, e un negativo più un negativo e ne faccio la somma, cosa può capitare? Beh, può capitare che il risultato sia positivo o negativo, a seconda del bit di segno. È chiaro che se il risultato di una somma di due numeri positivi mi salta fuori negativo, c'è qualcosa che non va. Se io facessi 0 1 1 0 più 0 1 1 1, che sono due numeri positivi, in decimale valgono 6 e 7, ma non ci interessa, avrei 0 più 1 1, 1 più 1 0 con il riporto di 1, 1 più 1 questo fa 3, quindi 1 con il riporto di 1, 1. Questo è 6, questo è 7, il risultato è meno 8 più 5, quindi meno 3. Chiaramente sbagliato. Allora, cosa osservo? Osservo che il segno è venuto fuori sbagliato. Ho sommato due numeri positivi e il risultato è saltato fuori negativo. Perché? Per via di un riporto che si è propagato. Tra l'altro, notate che non c'è stato nessun riporto in uscita qua da questa somma degli ultimi bit. Non importa, abbiamo appena detto che il riporto che ci sia o che non ci sia, non ci dà informazione utile in complemento 2. Quindi, io ho sommato due numeri positivi e mi aspettavo che il risultato dovesse essere positivo. Invece è stato fuori negativo, quindi c'è overflow, quindi il risultato è sbagliato. Ovviamente rifacendo i conti in decimale ci accorgiamo molto bene che è sbagliato. Idem, se avessi fatto la somma di due numeri negativi e il risultato veniva negativo, ero opposto. Ma se invece somma di due numeri negativi e il risultato mi salta fuori positivo, cioè con un bit di segno pari a 0, allora anche qua ho una condizione di overflow. Quindi, l'unica cosa che dobbiamo verificare quando facciamo l'operazione in complemento 2 è il segno del risultato rispetto al segno degli addendi. Se gli addendi hanno un segno diverso, il risultato può avere qualunque segno, è sempre giusto. Se gli addendi hanno lo stesso segno, allora il risultato deve avere lo stesso segno degli addendi, altrimenti si è verificato un overflow. Quindi la regola è molto semplice. C'è solo un caso in cui si verifica l'overflow, quello in cui gli addendi hanno lo stesso segno e il risultato invece è un segno diverso. Il segno del risultato quando gli addendi hanno un segno diverso non importa, nel senso che in questo caso è venuto negativo perché il 53 in valore assoluto era maggiore del 38, però poteva anche venire positivo, l'importante è che è sempre giusto. Non può mai capitare un risultato errato, quindi non si può mai verificare in questo caso una condizione di overflow. Quindi questo ci sta dicendo che le operazioni in complemento 2 le sappiamo già fare, se le sapevamo farle in binario puro, in particolare noi ci limitiamo alla somma e alla sottrazione, ma il modo di analizzare l'overflow è diverso nei due tipi di codifiche. In un caso vado a vedere il carry, nell'altro caso vado a vedere i segni. Cosa dobbiamo ancora dire sul complemento 2? Dobbiamo ancora dare un'occhiata in questa codifica particolare, quali sono i valori che posso rappresentare. I valori che posso rappresentare, poiché sono numeri positivi o negativi, posso chiedermi qual è il numero minore in assoluto, quindi il numero, fatemi dire, non ditelo ai colleghi di matematica, il numero più negativo che posso rappresentare e in questo caso è come lo scrivo il numero più negativo che posso rappresentare su un certo numero di bit, usiamo 6 bit per esempio, è un 1 con tanti zeri. Perché un 1 con tanti zeri è il numero minore? Perché ci metto, è una sommatoria questo sempre, non un numero di complemento 2. Se voglio il numero più piccolo possibile ci devo mettere il termine negativo, l'unico termine negativo che posso mettere e invece non ci devo mettere nessun termine positivo. E quindi la rappresentazione del numero più negativo, del minimo numero rappresentabile in complemento 2 su n bit è 1 seguito da tanti zeri. E quanto vale? Vale esattamente con la potenza negativa che aggiungevamo, quindi 2 alla n-1 negativa col segno meno davanti. E invece il numero massimo il numero massimo sarà un numero positivo, quindi ovviamente il segno è 0 e poi ci metto tutto ciò che di positivo posso avere, quindi tutti gli uni che mi servono, tutti gli altri bit li metto 1 in modo che ogni volta che metto un bit a 1 chiaramente contribuisce con un addendo positivo alla sommatoria. E quindi questo è lo stesso valore, questo numero è il numero che coincide col massimo numero in binario puro che potrei scrivere usando solamente n-1 bit, no? n-1 perché 1 l'ho già usato per il segno, quindi non lo posso più usare per rappresentare il numero. E quindi abbiamo la stessa formula, 2 alla numero di bit meno 1, solo che questa volta il numero di bit non è più n, ma è n-1 perché come abbiamo detto il bit più significativo fa storia a sé e quindi non lo possiamo mettere a 1 per avere un valore altamente positivo. Questa è la formula generale, ad esempio su 8 bit vado da meno 128 più 127, ricordavamo che in binario puro invece su 8 bit vado da 0 a 255 e in modulo segno su 8 bit andavo da meno 127 a più 127, quindi il binario puro, ricordavamo, perde una combinazione per via del doppio 0, mentre invece il complemento 2 esattamente sfrutta le 256 combinazioni possibili, è leggermente asimmetrico perché c'è un valore negativo in più rispetto a uno positivo, così come avevamo già osservato la volta scorsa. Ci manca ancora una riflessione da fare sui numeri in complemento 2, noi abbiamo imparato a convertire i numeri binari, a leggere i numeri in complemento 2, quindi dato un numero in complemento 2 vediamo un attimo quanto vale in decimale. ma l'operazione inversa come avviene? Ecco l'operazione inversa, andiamo all'asile 27, cioè da decimale a complemento 2, come faccio a farla? Cioè ho un numero decimale e mi chiedono di rappresentarlo in complemento 2, su un certo numero di bit chiaramente. Allora immaginiamo di avere un numero, lavoriamo su 6 bit ad esempio, prendiamo qua una pagina vuota e proviamo a lavorare con dei valori su 6 bit, quindi 6 bit e vogliamo rappresentare due numeri, non so, il più 19 ad esempio, e prendiamo anche il meno 19, è lo stesso. Allora come facciamo? Poi sulle slide è spiegato un algoritmino che si può applicare, però in realtà è tutto molto più semplice. Se io voglio rappresentare il più 19 in complemento 2 su 6 bit, questo è un numero positivo, ok? Quindi vorrà dire che sui miei 6 bit, ops, scusate, questo ho disegnato un po' storto, disegniamolo più dritto, sui miei 6 bit, che posso disegnare così, ok? Il primo sicuramente sarà 0, sarà 0 perché il numero è positivo, questo varrebbero 1, 2, 4, 8, 16, meno 32, ok? Su 6 bit. Qui è 0 perché l'unico termine, visto che il numero è positivo, l'unico termine negativo deve essere 0. E allora mi rimangono 5 bit in cui posso scrivere il valore binario, scusate, di più 19. 19 possiamo fare tutte le divisioni successive, chiaramente 19 diviso 2 fa 9 col resto di 1, 9 diviso 2 fa 4 col resto di 1 e così via, ma se no facciamo prima osservare che 19 si può solo ottenere facendo 16 più 3, 16 più 2 più 1, quindi metto gli uni in modo che la somma dei pesi corrispondenti agli uni mi dia il valore che mi interessa e dall'altra parte si sanno 0. Quindi se il numero da codificare è un numero positivo, da codificare in complemento 2, lo tratto esattamente come se fosse un numero in binario puro, facendo attenzione che il bit di segno deve essere fermo a 0, ok? Cosa capita invece se dovessi codificare un numero negativo? Allora anche qua ci facciamo la nostra scatoletta di 6 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bit, ed essendo un numero negativo noi sappiamo già che gioco forza il bit più significativo deve essere pari a 1. Come posso ragionare? Beh, se questo numero, questo 1 che ci deve essere, mi dà già un contributo di meno 32, io per rappresentare meno 19 dovrò sommare un certo valore, usando i numeri positivi che mi rimangono qua, valore che sommato 19 dia 32, cioè in altre parole io qua devo scrivere un numero in binario pari a 32 meno 19, cioè 12 meno 9 fa 3, 2 meno 1 fa 1, 13, se io qua dentro scrivessi il numero più 13, qui posso solo scrivere numeri positivi, se scrivo più 13, allora capita che meno 32 più 13 fa esattamente meno 19, cioè il numero che cercavo, quindi mi basta calcolarmi il complemento a meno 32 del numero che volevo calcolare e come faccio a scrivere 13? 13 sarà 8 più 4 più 1, quindi 8 più 4 più 1 non c'è 16, 8, 4 e 1, quindi in questo caso ragiono direttamente sulla codifica del numero dicendo che è meno 19 lo ottengo con il meno 32 che è il contributo che mi dà il bidisegno, più un offset positivo che mi porta da meno 32 fino a meno 19 e questo offset altro non è che la differenza calcolata. Questo è il modo secondo me più semplice e diretto di prendere un numero negativo e trasformarlo in complemento a due. Esiste un altro modo che è quello raccontato nelle slide che ci dice prendi il numero, complementa ogni bit e somma 1 e questo è un metodo più meccanico, non dobbiamo ragionare sulle differenze e ovviamente arriva lo stesso risultato. Vediamo come funziona. Quindi è un secondo metodo per rappresentare un numero negativo in complemento 2. Allora questo voglio rappresentare meno 19, rappresento prima più 19, ok? Più 19 beh casualmente lo rappresento in binario puro, ok? Però su 6 bit. Casualmente l'abbiamo appena fatto sul ramo di sinistra e quindi non dobbiamo fare calcoli, ma se no sarebbero facili perché abbiamo visto che era 16 più 3, no? Quindi 0, 1, 0, 0, 1, 1. Poi cosa mi dice la regoletta sulla slide? Hai scritto più 19, per trasformarlo in meno 19 inverti tutti i bit e somma 1. Inverti tutti i bit quindi vuol dire che dove c'era 0 scrivo 1 e dove c'era 1 scrivo 0, ok? Questo se a qualcuno interessasse si chiama complemento 1 del numero, poi magari bisogna anche farlo giusto perché questo è un 1 e non è un 0. Cioè si invertono tutti i bit 1 a 1 e poi di questo numero sommo 1, 1 in binario. Quindi faccio questa operazione qui, ok? Del corrispettivo positivo del numero che voglio convertire, a cui ho ribaltato e invertito tutti i bit, a questo numero sommo 1 e questa sommo ovviamente la faccio come sempre usando la macchinetta del binario puro. 0 più 1 fa 1, 0 più 0 fa 0, 1 più 0 fa 1, 1 più 0 fa 1, 0 più 0 fa 0, in questo caso non avevo nessun riporto. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Che ovviamente se questo metodo è valido così come era quello precedente, questo valore è identico a quello di prima. sono uguali. Sono due modi diversi di arrivare allo stesso risultato. Il primo con un pochino più di aritmetica, un pochino più di ragionamento, mettiamo il meno 32 e poi vediamo cosa manca, il secondo invece non richiede di pensare per nulla, semplicemente scrivo il numero positivo, lo inverto, sommo 1. In questa somma, in questo caso, sono stato fortunato perché non c'era nessun riporto, se ci fossero dei riporti, si usano, si propagano normalmente, non è una somma come tutte le altre, il risultato di questa somma è la codifica binaria del valore negativo corrispondente al valore positivo da cui sono partito, cioè il mio meno 19. Quindi ci sono questi due metodi alternativi, scegliete quello che chiaramente è più, con il quale vi sentite più a vostro agio, più comodi. Io so che molti usano il secondo metodo che è quello macchinetta, scrivo, inverto, sommo, in realtà per i numeri che non sono molto grandi, ragionare direttamente sui valori e sull'aritmetica, io lo trovo più veloce, più rapido, essenzialmente, arrivare al risultato. Ok, questo grosso modo è ciò che abbiamo da dire sulla rappresentazione dei numeri interi, positivi o negativi. Ovviamente il nostro calcolatore non si ferma ai numeri positivi o negativi, quindi, per quanto riguarda la codifica dei numeri int all'interno dei nostri programmi, sappiamo a questo punto che un int viene codificato in complemento 2 in python su un numero di bit sufficienti. Ma poi abbiamo anche i float. Allora, come faccio il passaggio dai numeri interi ai numeri reali? Come sono rappresentati i float? Sapendo a questo punto come siamo in in grado di rappresentare numeri interi positivi, binario puro, oppure interi relativi, complemento a 2 principalmente o in alcuni casi anche in modulo e segno. La rappresentazione di numeri reali si può rappresentare in due modi diversi. Una rappresentazione viene detta di virgola fissa, in cui, dato un certo numero di bit, n, decido a priori che alcuni di questi bit li userò per la parte intera, cioè la parte prima della virgola, e gli altri bit li userò per la parte frazionaria. Quindi io deciderò, ad esempio, che su 16 bit, ad esempio, ne userò diciamo 10 per la parte intera e 6 per la parte frazionaria. Quindi io scriverò dei numeri in binario, questo, io sto inventando adesso dei numeri così, virgola e poi virgola vado avanti. Così come facciamo in decimale. Ecco, qual è il significato di una virgola con un numero rappresentato in base 2? Nulla di speciale, nel senso che le potenze del 2 dopo la virgola saranno 2 alla meno 1, 2 alla meno 2, 2 alla meno 3 e così via. Così come le potenze del 10 dopo la virgola sono 10 alla meno 1, 10 alla meno 2, 10 alla meno 3. Quindi, rappresentare un numero frazionario in binario non è un problema concettuale. Usiamo la stessa tecnica del decimale, cioè mettiamo una virgola e dopo la virgola le potenze del 2, della base, vanno avanti in modo decrescente. Sono potenze negative, quindi sarà un mezzo, un quarto, un ottavo, ma nulla di preoccupante. Quando questo lo devo scrivere dentro una parola di macchina, una parola di bit, di un byte, due byte, tre byte, quattro byte, quanti saranno, ovviamente in qualche modo devo sapere o devo dire dove si trova la virgola. Dove si trova perché ovviamente il simbolo di virgola non ci sta. Dentro il calcolatore o ci sta 0 o ci sta 1. Così come non potevamo mettere il simbolo o meno, non possiamo neanche mettere il simbolo virgola all'interno di un bit. E allora decidiamo priori, ok, la virgola sarà, se ho 16 bit, la virgola sarà prima degli ultimi 6 e dopo i primi 10. Quindi in questo caso fisso la posizione della virgola decimale. È semplice da implementare un metodo di questo genere, però ha il difetto che io devo sapere in questo caso quali numeri sto rappresentando, perché più sposto questa virgola a sinistra, più avrò una precisione, cioè avrò tante cifre frazionarie dopo la virgola, quindi avrò una precisione maggiore del numero, però la parte intera si riduce e quindi il valore assoluto dei numeri che posso rappresentare diventa più piccolo. Se invece ho una grande parte, un gran numero di bit per la parte intera, beh la parte frazionale avrà pochi bit e quindi avrò poca precisione dopo la virgola. Ma io questa virgola la devo decidere all'inizio, quindi diventa molto difficile inventarsi un metodo, una posizione della virgola che vada bene per tutti, che vada bene per tutti i programmi che vogliamo fare. Per questo la rappresentazione in virgola fissa si usa pochissimo e si usa quasi sempre invece una rappresentazione cosiddetta in virgola mobile, che prende spunto dalla notazione esponenziale che siamo abituati a usare in ingegneria, ma che siamo abituati a usare su qualunque calcolatrice scientifica, dove i numeri reali siamo abituati a scriverli con una parte che non so 1,75 per 10 alla 18, un numero a caso. Allora noi che cosa abbiamo quando scriviamo i numeri in questo modo? Abbiamo un numero reale che normalmente manteniamo piccolo, compreso tra 0 e 10 e poi una potenza del 10 per cui moltiplichiamo questo numero. Allora questo giochino di moltiplicare per una potenza del 10, cosa significa? Significa prendi questa virgola e spostala a destra di 18 posizioni, o nel caso in cui l'esponente fosse negativo, spostala a sinistra di 18 posizioni. Quindi è un modo per dire, io la virgola te la metto sempre qui, ma poi ti dico di quanto spostarla. Ecco questo è il motivo per cui si chiama rappresentazione virgola mobile, perché la virgola decimale la posso spostare avanti o indietro quanto mi piace. Quindi ad esempio questo numero qua lo posso rappresentare come 0,1 per 10 al meno 5, dicendo che da questo 0,1 la virgola lo sposto indietro di 1, 2, 3, 4 e 5 posizioni fino alla sua posizione finale. Dando un po' di terminologia, qualunque numero si può sempre rappresentare in questa notazione, conoscendo in una certa base, in questo caso la base 2, conoscendo tre informazioni. La prima informazione è il segno del numero, positivo o negativo. La seconda informazione è la cosiddetta mantissa, cioè questa parte reale, cioè il valore effettivo del numero, e poi c'è l'esponente da dare alla base per poter spostare la virgola a sinistra o destra. E quindi ciascun numero reale lo rappresentiamo sempre con una formula di questo genere, mantissa per 2 elevato esponente. Mantissa è una parola un po' strana, ma non vuol dire nulla di particolare, vuol dire semplicemente il numero che sto prendendo in considerazione e l'esponente rappresenta la posizione della virgola, essenzialmente. Questo più o meno davanti chiaramente mi dà il segno del numero. Allora questo ci dà lo spunto per rappresentare i numeri in virgola mobile, per quello si chiama float, floating point, virgola mobile o floating point, e da cui la parola float, che usiamo nel nostro Python, nei nostri linguaggi di programmazione, ci dà lo spunto per rappresentare i numeri in floating point, rappresentando separatamente queste tre quantità, segno, mantissa ed esponente. queste tre quantità. Tra l'altro faccio solo notare che l'esponente anch'esso al suo interno ha un segno, positivo se sto spostando la virgola a destra, negativo se sto spostando la virgola a sinistra, che è indipendente rispetto al segno del numero. Il segno del numero è essenzialmente della mantissa. E quindi noi abbiamo un certo numero di bit a nostra disposizione e decidiamo a priori quanti bit usare per il segno, uno, per forza, è più o meno, zero o uno. Quanti bit usare per l'esponente, quanti bit usare per la mantissa. E a seconda della quantità di bit che usiamo, avremo delle rappresentazioni più o meno precise dei nostri numeri reali. In particolare ci sono due standard che vengono implementati nella maggior parte dei linguaggi di programmazione, il cosiddetto rappresentazione in singola precisione, sp sta per singola precisione, che normalmente corrisponde al tipo di dato float, oppure in doppia precisione che corrisponde al tipo di dato che si chiama double. La differenza è che in singola precisione lavoro su 32 bit totali, in doppia precisione lavoro su 64 bit totali. Di questi 32 bit della singola precisione, 1 bit viene usato per il segno, ovviamente, 8 bit per l'esponente e 23 per la mantissa. Quindi ho un esponente su 8 bit e quindi di fatto la virgola binaria la posso spostare da meno 127 più 128, dipende un po' come la codifichiamo. Quindi io posso giocare sullo spostamento a destra o sinistra della virgola di più o meno 127 posizioni, perché qui sto rappresentando un numero relativo su 8 bit. E la mantissa mi dà 23 bit di precisione, quindi dopo la virgola ho 23 cifre binarie, 23 corrisponde circa più di... ricordavamo che ogni 20 bit binari erano 3 cifre decimali e quindi vuol dire che ci dà una precisione circa di 7 cifre decimali, a occhio croce, per avere un ordine di grandezza. Mentre invece sui numeri double uso sempre ovviamente un bit per il segno, 11 bit per l'esponente e addirittura 52 bit per la mantissa. Quindi questo mi dà una precisione di 50 bit e corrisponderà circa a 15 cifre decimali dopo la virgola. Quindi una precisione molto elevata. C'è solo un trucco che essendo in binario tutte le mantisse sono sempre nella forma 1, qualcosa. Noi nella mantissa noi avevamo dei numeri che potevamo in decimale, vedete qua era 3,14, 3, qualcosa, perché erano cifre decimali. In binario, queste cifre essendo solo 0 e 1, possiamo sempre, come si dice in gergo, normalizzare il numero in modo che davanti alla virgola ci sia una cifra sola. Questo lo facciamo anche in decimale, se voi prendete la calcolatrice, lei non vi scriverà mai questo numero 0,314 per 10 alla 1. Vi scriverà 3,14 per 10 alla 0. Il numero viene normalizzato quando ha esattamente una cifra prima della virgola. Ma in binario, se ho esattamente una cifra prima della virgola, cosa potrà essere questa cifra? Non è sicuramente uno 0, ma è un 1. Quindi la mantissa è sempre compresa tra 1 e 2. Tra 1 compreso, se è 1,000 e 2 escluso, 1,111 è il valore massimo della mantissa. Questo non entriamo troppo nel dettaglio di questa rappresentazione, perché essendo un po' complicata, avendo molti bit, diciamo così, anche un po' complessa da gestire manualmente, io vi ho segnalato sulle slide il link a questo sito, scusate, nella slide successiva, float.exposed, messo qua sulle slide, che corrisponde a questo sito qua che ho aperto adesso, che ci fa proprio vedere per un determinato valore decimale che inserisco qual è la codifica, ad esempio in singola precisione, oppure in doppia precisione di quel numero. Vedete che in doppia precisione il numero di bit è 64, comincia ad essere un pochino impegnativo. Quindi se noi volessimo rappresentare ad esempio un numero come un milione, possiamo scrivere un milione e lui mi dice che un milione si può ottenere con una mantissa pari a questo valore per un esponente pari a questo. Ovviamente noi non lo riconosciamo in decimale, perché questo è un valore da interpretare sempre in binario, sotto ci fa vedere qual è il calcolo che viene fatto. Un milione lo rappresento con questa codifica, dove il bit di segno è pari a zero, messo qua, e quindi abbiamo il segno positivo, l'esponente è questo qua scritto nei bit in verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit, come avevamo detto, in verde, e quindi corrisponderà in base 2, questo è un errore di questo sito, qui dovrebbe essere scritto 2 anziché 10, per 2 elevato a questo numero, questa sottrazione qui lasciamo perdere, significa che l'esponente è codificato in un modo particolare che si chiama eccesso 128, che è un altro modo ancora di rappresentare i numeri relativi che noi non abbiamo approfondito, però 10 elevato all'esponente, lasciamo perdere questa sottrazione qua, come dicevo, semplicemente fa parte della codifica dell'esponente, per la mantissa, 1, una serie di uni, uni e zeri, questa è, questi uni e zeri scritti in blu corrispondono alla rappresentazione del numero e sono lunghi 23 bit, più un 24esimo bit che è sempre 1 messo qua davanti, essendo sempre 1, per risparmiare spazio non si rappresenta neanche, non si spreca spazio per un bit che sarà sempre fisso a 1, sappiamo che ce lo trattiamo in modo sottinteso, e quindi questa espressione qui, se noi la applicassimo in base 2, mi viene positivo, perdura 19, per 1,907, quindi quello che stranamente era un numero intero in decimale, in realtà in base 2, quando lo rappresento come float, viene convertito con questa espressione strana, ricostruisco un milione prendendo 1,90734 e moltiplicandolo per 2 la 19, perché ovviamente sulle potenze del 2, devo ragionare con le potenze del 2 e non con le potenze del 10, quindi con questo sito potete provare a giocare, inserire vari valori e vedere che cosa avviene, una cosa curiosa, capita se io provo a inserire un numero come un decimo, 0,1, che per noi in base a 10 è un valore importante, immaginate tutte le volte che dovete fare i calcoli con dei valori di denaro, quindi gli euro e i centesimi, o i decimi di euro, e lui non riesce a rappresentarlo correttamente, quando ha provato a scrivere 0,1, lui ha rappresentato il numero floating point più vicino che poteva a 0,1 e che non è proprio 0,1, qui vedete che ci si è un certo numero di zeri, che sono circa 7 zeri e che era più o meno la precisione che ci aspettavamo, seguito però da un errore di rappresentazione, perché 0,1 non si può rappresentare in modo esatto in floating point, allora che in una rappresentazione con un numero finito, fisso di bit non si possano rappresentare tutti i numeri, è normale, anche noi se ci dicessimo guarda rappresenta pi greco usando 8 cifre decimali, noi ne mettiamo 8 e sappiamo che ci sono altre infinite che non stiamo rappresentando e che costituiscono un errore, quindi questo non ci preoccupa di per sé, ci preoccupa un pochino di più che un numero 0,1 che per noi è un numero importante, in realtà non sia rappresentabile in modo esatto, ci saremmo aspettare, però purtroppo la base 2, noi lavoriamo in base 10 dove c'è un fattore nel numero 10, 10 è 2 per 5, allora questo 5 non essendo una potenza di 2 fa sì che tutte le volte che c'è una frazione con il 5 al denominatore diventerà una frazione periodica in binario, adesso in decimale non lo vedi, ma se lo guardi sotto in binario guarda 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 0 0 1, è una frazione periodica, come per noi capita in decimale un terzo che fa 0,3 periodico e qui un decimo fa 0,1 0 0 1 periodico, non ci possiamo fare nulla, semplicemente sappiamo che il valore 0,1 viene approssimato da questo valore in base 10 e che ci dà un valore esatto che non è esattamente quello che è approssimato rispetto a quello che vorremmo. È chiaro che se io passassi in doppia precisione, che provassi a rappresentare 0,1 in doppia precisione e ottengo un risultato che è molto più preciso, perché in doppia precisione ho il numero doppio di bit della mantissa, però non sarà mai esattamente 0,1 perché ci sarà sempre comunque un errore di rappresentazione, perché essendo anche qua la rappresentazione periodica, un numero periodico, a un certo punto devo troncarlo, devo fermarlo. questo purtroppo non c'è nulla da fare, una volta che abbiamo scelto questo tipo di rappresentazione con le potenze, con l'esponente del 2, dobbiamo accettare che ci siano delle rappresentazioni approssimate per i numeri che stiamo rappresentando, che vogliamo rappresentare. E quindi dobbiamo essere coscienti, quando facciamo un'operazione aritmetica non è detto che il risultato che otteniamo sia esatto, cioè dobbiamo sempre aspettarci che un'operazione aritmetica tra numeri reali, rappresentati come singola o doppia precisione, come flotto o come double, possano avere un errore di rappresentazione. E anche per valori che riteniamo normali, non preoccupanti come un mezzo, sei decimi e cose di questo genere, vengono rappresentati in modo approssimato. E qual è la conseguenza di questa approssimazione? Beh, la conseguenza è il fatto che ogni volta che faccio un'operazione su questi numeri, il risultato a sua volta viene troncato, quindi se ci fosse un numero periodico, 0,1 più un altro 0,1, il risultato non farà esattamente 0,2, o meglio, non farà lo stesso risultato che otterrei convertendo direttamente 0,2. E quindi, ad esempio, facendo la somma di tre numeri, se facessi prima y più z e poi il risultato più x o viceversa, il risultato potrebbe non coincidere. Ad esempio, la somma in floating point è un'operazione che non è associativa. Qui fa vedere un esempio particolarmente sfortunato, dove ho dei numeri che sono al limite dell'intervallo di rappresentazione, quindi 10 alla 38 è uno dei numeri più grandi che posso rappresentare in singola precisione, e voglio sommare meno 1,5 per 10 alla 38, 1,5 per 10 alla 38 è 1. Allora, noi sappiamo che la somma di x più y più z fa 1, perché x e y sono uno all'opposto dell'altro, questo matematicamente. Però se provo a fare questa operazione sul calcolatore, se io facessi per prima la somma x più y, questa parentesi sommerebbe due numeri che sono uno all'opposto dell'altro, quindi questa parentesi fa 0 più 1 fa 1, risultato corretto. Ma se provassi a fare invece la somma prima di y più z, che matematicamente dovrebbe essere lecito, mi troverei a fare un 10 alla 38 più 1, però fa sì che questo 1 sia al di fuori della mantissa, cioè sia, diciamo così, oltre il ventitresimo bit della mantissa. Quindi se faccio 10 alla 38 più 1, il risultato è ancora sempre 10 alla 38. Quindi questo più 1 si perde, perché è di un ordine di grandezza troppo diverso rispetto all'altro numero che sto sommando. Sì, questo è rappresentabile, quest'altro è rappresentabile, ma la loro somma è indistinguibile, perché la differenza tra i due è minore di 2 alla meno 23, che è il numero di bit che ho a disposizione. E quindi questa seconda parentesi è di nuovo uguale a y. Questo y più z è uguale a y, perché z è trascurabile rispetto a y nell'operazione di somma, è troppo piccolo. Allora qui sto facendo, quindi se questa seconda parentesi è di nuovo uguale a y, io sto facendo x più y, che fa 0. Lo z che aveva un valore assoluto molto più piccolo rispetto agli altri due numeri, se lo sommo, se lo mette insieme a uno dei due numeri, il suo conto di butto sparisce in certo senso. Quindi questo è un esempio limite, chiaramente, spesso non capitano, per fortuna nei conti di tutti i giorni queste situazioni limite non capitano, però una determinata operazione che a seconda del modo in cui viene realizzata e dell'ordine con cui viene realizzata, può dare un valore molto diversi, ad esempio 0 o 1. Nei crediti di calcolo numerico che farete al secondo semestre approfondiranno molto di più questo aspetto che vi insegneranno a tenere sotto controllo l'errore di rappresentazione che fate e a, in qualche modo, capire in che ordine fare l'operazione per minimizzare questo tipo di effetto. La conclusione che ne deriviamo dal punto di vista della programmazione è che io non potrò mai chiedermi se A e B sono due numeri reali se A è uguale a B. L'istruzione if A è uguale a B in Python, quando A e B sono numeri reali è un'operazione rischiosa, perché questo A ha un suo errore dentro, un epsilon di errore e anche questo B ha un suo epsilon di errore e questi errori di arrotondamento possono far sì che due numeri che dai calcoli dovrebbero venire identici in realtà non sono uguali perché sono arrotondati in modo diverso, hanno degli errori di rappresentazione diverso. Questo vi ricordate, avevamo all'inizio, quando abbiamo cominciato a studiare i numeri in Python, visto che c'era la funzione, il metodo isClose che nella libreria matematica faceva la cosa giusta, cioè confrontava se due numeri reali erano vicini tra di loro a meno di un margine di errore e mai se erano esattamente uguali, perché l'uguaglianza non è una condizione affidabile quando i numeri con cui lavoro sono numeri intrinsecamente approssimati, quindi da questo noi impariamo che nel secondo semestre imparerete a capire come fare i calcoli tra numeri in floating point evitando queste condizioni, ma per ora comunque sappiamo che l'uguaglianza tra due numeri in floating point, anche se sintaticamente è corretta, spesso è problematica e quindi dobbiamo sempre usare un concetto di ugualianza approssimata e non di ugualianza vera e propria. Detto questo, la linea dei numeri reali si può rappresentare chiaramente con la nostra rappresentazione in virgola mobile e si può dividere in come un po' anche come la rappresentiamo sotto, sempre tornando a questo sito, questo grafico è carino perché ci fa vedere spostando sinistra a destra il valore della mantissa, spostando in alto e basso il valore dell'esponente come faccio a ottenere tutti i vari numeri, quindi man mano che sposto questa cosa io trovo dei numeri, valore esatto in base 10, questo, che mi dice quanto vale, vedete che quando vado a destra l'esponente del 10 cresce, quando vado a sinistra l'esponente del 10 a un certo punto diventa negativo, sinistra a destra sto modificando le cifre azzurre, alto e basso sto modificando le cifre verdi e quindi mi da tutte in qualche modo le, torniamo in floating point per così ho meno bit che ci danno fastidio, ho tutti i valori possibili che posso rappresentare e il valore più basso possibile sarà quello che mi dà il valore minimo della mantissa, in questo caso 2 alla meno 127, il valore più grande è quello che corrisponde al valore massimo dell'esponente, in questo caso 2 alla più 127, se noi trasliamo queste cose in decimale scopriamo che il numero più piccolo che posso rappresentare, qui parlo di singola precisione su 32 bit, su 64 bit ovviamente i numeri sono molto più grandi, il numero più piccolo che posso rappresentare è 10 alla più 38 che può essere positivo o negativo a seconda del segno, chiaramente a seconda del bit di segno io sto ragionando a sinistra o a destra dell'origine della retta dei numeri, se il bit di segno fosse positivo il numero più grande che posso ottenere lo otterrò mettendo al massimo l'esponente, 2 alla 127 fa circa 10 alla 38, il numero più piccolo positivo che posso rappresentare, quindi più piccolo nel senso di più vicino allo 0, sarà 10 alla meno 38 che è quello che ottengo mettendo l'esponente 2 alla meno 127, quindi avrò una serie di numeri reali che vanno da 10 alla meno 38 a più 10 alla 38 rappresentabili, avrò una serie di numeri negativi che vanno da meno 10 alla meno 38 a meno 10 alla più 38 rappresentabili, tutti i numeri che sono maggiori di 10 alla 38, circa 10 alla 38, il valore esatto è più lungo da scrivere, ma qui per semplicità intorno a 10 alla 38, tutti i numeri maggiori non sono rappresentabili in singola precisione, dovrei passare a doppia precisione, così come i numeri minori di meno 10 alla 38, quindi l'overflow si verifica quando esco da questo intervallo più o meno 10 alla 38, ma ho anche un alto rischio che è quello di voler rappresentare dei numeri che sono troppo piccoli rispetto al più piccolo numero rappresentabile, questo problema non ce l'avevo con i numeri interi, perché il numero intero o è 1 o è 0, qui tra l'1 e lo 0 ho infiniti numeri, posso rappresentare numeri sempre più piccoli, ma a un certo punto il mio esponente mi arriva a 2 alla meno 127 e mi devo fermare, e quindi avrò una certa serie di numeri che sono compresi tra 0 e 10 alla meno 38 che anch'essi non sono rappresentabili e nei calcoli vengono confusi con lo 0, quindi se il risultato di operazione è minore di 10 alla meno 38, il risultato che il calcolatore mi darà è 0, però voi capite che prendere un numero messo qui, che sarà anche 10 alla meno 40 e dire guarda che tu non sei 10 alla meno 40 ma sei 0, stai compiendo un errore di rappresentazione del 100%, e questo errore si può poi propagare, soprattutto se poi moltiplico, moltiplicare per 0, moltiplicare per un valore seppur piccolo ma diverso da 0, ha degli effetti molto molto diversi. Allora questa condizione che può capitare solamente sui numeri in virgola mobile, prende il nome di underflow, quindi un po' il contrario dell'overflow, sui numeri interi non può capitare, non ha senso, sui numeri reali capita quando la rappresentazione del numero è più piccola del più piccolo numero rappresentabile in valore assoluto, e quindi il numero verrà poi forzosamente approssimato a 0, anche se ovviamente non era 0. Queste condizioni ovviamente di overflow o underflow possono capitare quando facciamo le operazioni, insomma, moltiplicazione, eccetera, tra numeri rappresentati in virgola mobile, quindi dobbiamo fare attenzione a questo aspetto in più. Sono un po' complessi da gestire questi numeri reali, per fortuna sono abbastanza trasparenti a noi, purché ci ricordiamo che il risultato non è mai esatto e quindi lo prendiamo sempre con le molle. Ecco, in questa nostra progressione siamo partiti dai numeri interi, poi numeri relativi, poi numeri reali, ma è chiaro che numeri complessi sarebbero facili perché basta prendere due numeri reali, quindi dal punto di vista della presentazione dei numeri abbiamo accennato a tutti i valori che possono essere interessanti dal punto di vista della codifica nel calcolatore, ma il calcolatore sappiamo che non rappresenta solamente numeri, rappresenta anche altri tipi di dati, noi tipi di dati che possono essere testo, suoni, musica, video, filmati, immagini, fotografie, eccetera, eccetera. E qual è il trucco per rappresentare anche tutte queste cose? Beh, finora ci siamo basati su delle formulette matematiche, delle sommatorie, ma perché erano sempre numeri, e quando voglio rappresentare invece un'immagine o un testo, userò l'operazione che accennavamo all'inizio di digitalizzazione, cioè di convertire un qualunque tipo di formato in una serie di numeri. Noi questo lo sappiamo fare, ad esempio sul testo l'abbiamo già visto, ma la regola generale è sempre la stessa, voglio rappresentare dei testi, allora ad ogni lettera dell'alfabeto faccio corrispondere un codice numerico, tipicamente un numero intero, e poi questo numero intero lo codifico in binario puro. Voglio rappresentare dei colori? Allora a ciascun colore della tavolozza farò corrispondere un numero intero, e questo numero intero lo codifico in binario puro, e così via. Voglio rappresentare dei suoni, allora andrò a campionare l'onda sonora, a ciascun valore di intensità dell'onda sonora associerò un numero, che sarà un numero intero, che rappresenterò in binario puro, e così via. Quindi alla fine mi riconduco sempre alla rappresentazione di un numero o una serie di numeri, i quali codificano degli oggetti non numerici. Quindi io ho degli oggetti fisici, possono essere dei colori, possono essere delle lettere, possono essere dei livelli sonori, possono essere dei livelli di intensità luminosa, possono essere dei caratteri, dei simboli, dell'emoticon, a seconda di quali sono i simboli che voglio rappresentare, associerò attraverso un'operazione che appunto prende il nome di codifica o digitalizzazione, cioè conversione in numeri, associo un codice numerico binario, che poi a sua volta sarà rappresentato in binario puro, a ciascuno degli oggetti che voglio rappresentare. Quindi il calcolatore farà delle elaborazioni su una serie di numeri che però in realtà rappresentano un testo, e quindi le operazioni che farà sui numeri avranno un effetto dal punto di vista dell'utente sull'elaborazione del testo, o sull'elaborazione dell'immagine, o sull'elaborazione del suono, e così via. Più è complicato il tipo di dato multimediale da gestire, più complicata sarà questo tipo di codifica, pensiamo anche solo alla complessità e al numero di codifiche video che ci sono in giro, ad esempio dobbiamo cambiare i televisori perché sta cambiando la codifica del video che viene trasmesso e stanno usando degli algoritmi di codifica più sofisticati e con un livello di compressione maggiore e quindi hanno degli impatti anche macroscopici, sostanzialmente la scelta di questi codici, perché poi i vari dispositivi che devono trattare questi dati devono essere in grado di codificare e devono codificare questi valori. Questa operazione di codifica spesso è abbastanza banale, cioè se ho degli oggetti io posso associare a questi oggetti dei codici numerici binari distinti, basta che questi codici siano diversi tra di loro e mi permetteranno sempre di distinguere un oggetto rispetto all'altro. Più saranno gli oggetti che devo rappresentare, immaginiamo di rappresentare dei colori, più saranno le sfumature di colori diversi che voglio rappresentare, più saranno i numeri binari che mi serviranno per distinguerli e se ho numeri maggiori mi servirà un numero maggiore di bit a disposizione per poterli rappresentare. Quindi se io voglio rappresentare 8 colori diversi, li posso codificare da 0 a 7 e quindi mi serviranno 3 bit per rappresentare una tavolozza molto povera di 8 colori. Più oggetti, più sfumature, più variabilità devo rappresentare, quindi più saranno questi m oggetti a disposizione e ovviamente più saranno il numero di bit n che devo utilizzare per rappresentare gli oggetti. Ovviamente il numero di oggetti possibili sarà uguale, che posso codificare, sarà uguale a 2 al numero di bit perché 2 alla n è il numero di valori interi, di numeri interi distinti che posso rappresentare su n bit. E quindi se io invece conoscessi il numero m, cioè il valore di quanti oggetti voglio rappresentare, chiaramente il numero di bit che mi servono per rappresentarli sarà pari al logaritmo in base 2 di m. Questo simbolo qua indica approssimato all'intero superiore, ok? Il ceiling, la funzione ceiling approssima all'intero superiore. Quindi a seconda di quanta precisione voglio avere, quanta ampiezza di oggetti, di simboli devo rappresentare, avrò un numero, avrò bisogno di un numero di bit sempre maggiore. Ad esempio nelle tipiche immagini a colori, normalmente si usa una rappresentazione a 24 bit, nell'immagine di cui 8 bit per il rosso, 8 bit per il verde e 8 bit per il blu. Quindi ogni colore viene scomposto nelle sue tre componenti dei colori primari RGB, rosso, verde e blu e ciascuna intensità di rosso viene rappresentata su 8 bit, quindi su 256 sfumature di rosso, 256 sfumature di verde e 256 sfumature di blu. Quindi i colori che noi vediamo sul calcolatore di solito sono la combinazione di un livello di rosso più un livello di verde più un livello di blu e questi livelli non sono qualsiasi, sono quantizzati a gradini tra 256 livelli possibili. Perché 256? Perché abbiamo scelto di usare 8 bit per ciascun canale di colore. In totale sono 24 bit e in totale quanti colori potrò rappresentare? 2 alla 24 che sono circa 16 milioni di colori. Quindi le fotografie che scattiamo con il nostro cellulare o le immagini che vediamo sul nostro schermo di computer non possono rappresentare qualsiasi colore ma solamente un colore preso da una tavolozza molto ampia di 16 milioni di colori ma non è infinita. Se ci servissero chi fa grafica professionale ha bisogno di tavolette di colore più profonde quindi con numero maggiore, ad esempio lavorano con 12 bit per canale o 16 bit per canale colore dove chiaramente hanno bisogno di fare elaborazioni di tipo professionale su questo tipo di dato che è il colore nella grafica delle immagini. Ciascun dominio, io ho fatto l'esempio della codifica di colori, potrei fare l'esempio della codifica dell'audio e avremo anche lì tutto un mondo di codifiche possibili più o meno ottimizzate, più o meno adatte, più o meno precise, specifiche di ciascun dominio particolare. Noi in questo corso non abbiamo tempo, non abbiamo l'obiettivo di entrare nel dettaglio in questa parte di codifiche multimediali. Quello che ci preme sottolineare è che il trucco è sempre lo stesso, rappresentiamo qualunque quantità sotto forma di numeri interi e il numero intero verrà codificato in binario puro o in complemento 2 se fosse negativo e da lì in poi sappiamo come fare, sappiamo come fare le operazioni, sappiamo come rappresentare i numeri. Ciò che abbiamo visto un pochino più da vicino è la rappresentazione del testo, adesso qui non mi lungo troppo perché questa parte l'abbiamo già vista quando abbiamo visto le parti di programmazione, dove anche qua c'è stata una forte evoluzione, inizialmente si usavano solamente 7 bit per rappresentare i caratteri alfabetici, alfanumerici, in realtà 7 è un numero scomodo in binario per cui si usavano normalmente 8 bit che è la dimensione di 1 byte all'interno delle prime codifiche e questa è la tabellina che avevamo già visto con le codifiche delle prime 2 alla 7 combinazioni binarie e recentemente invece sappiamo che siamo passati a rappresentazioni su un numero di bit maggiore, Unicode utilizza minimo 21 bit, in realtà ne usiamo 32 perché 21 di nuovo è un numero che in binario non ha molto senso, quindi usiamo 4 byte, 32 bit in totale, è in grado di esprimere praticamente tutte le codifiche di tutti i caratteri del mondo e che è quello che usiamo normalmente nel nostro codice Python per rappresentare i caratteri e per rappresentare le stringhe. In realtà abbiamo due codifiche diverse, noi non ce ne accorgiamo molto, però quando il programma lavora con le stringhe, lavora direttamente con dei caratteri Unicode. Quando apriamo o scriviamo, leggiamo o scriviamo un file, per ragione di occupazione di spazio, si vuole evitare di usare 4 byte per ogni carattere e allora ci sono delle codifiche più compatte che permettono di ridurre il numero di byte quando non usiamo caratteri strani. Cioè, mentre nella tabella ASI ogni carattere occupava esattamente un byte e nella tabella Unicode estesa occupa 4 byte, noi non vogliamo automaticamente moltiplicare per 4 la dimensione del file. E allora ci sono queste codifiche un pochino più complesse, tra cui la codifica UTF-8 di cui abbiamo sentito parlare quando abbiamo visto i file, codifica i primi 127 caratteri usando un byte solamente. Poi utilizza 2 byte per i successivi 40-50 mila caratteri, usa 3 byte per il successivo milione di caratteri e così via. Più sono rari, strani, particolari i caratteri, più byte useranno e quindi la loro frequenza d'uso è chiaramente inversamente proporzionale al numero di byte che occupano. Nella maggior parte delle lingue, quindi comprese tutte le varie lingue, varianti del latino, del greco, delle lingue europee e arabe, riusciamo a far stare quasi tutti i caratteri dentro i primi due byte. Il terzo byte per le lingue invece ideografiche essenzialmente, quindi cinese, giapponese, coreano, eccetera, quegli ideogrammi hanno bisogno, visto che sono diciamo così molte decine di migliaia, hanno bisogno della rappresentazione su tre byte, che però sono diciamo così molto più ampie rispetto alla somma di tutti gli ideogrammi, quindi è una rappresentazione molto abbondante come spazio. E quindi anche qua si sono dovuti scervellare a trovare una codifica sotto forma di numeri di lunghezza variabili e questo complica le cose rispetto a tutti i simboli che potevano esistere. Ma alla fine questi numeri saranno numeri binari su 8 bit da rappresentare in binario puro. Ovviamente la codifica del testo, parliamo di testo puro, così come quando abbiamo parlato di un file di testo, era un file che aveva semplicemente il testo puro senza informazioni di formattazione, quindi la dimensione, il colore, il tipo di font, eccetera, eccetera, che potremmo avere in un word processor, in un programma di scrittura testi, che ci permette di scrivere non solamente del testo ma anche di specificare tutta una serie di informazioni di formato di quel testo lì. Ecco, questo se noi volessimo rappresentare oltre che al testo anche il formato avremmo bisogno di codifiche ulteriori, quindi delle codifiche binarie per indicare come fare a indicare il font, come fare a indicare la dimensione, come fare a indicare il colore, la sottolineatore e tutti i vari effetti che possiamo applicare al font. Quindi ogni volta che pensiamo, diciamo così, a una rappresentazione di un tipo di informazione, dobbiamo sapere che sotto c'è qualcuno che ha deciso un'opportuna codifica in binario, sotto forma di numeri, numeri binari, delle varie opzioni, delle varie variabilità che possiamo avere in questo caso nella composizione di un testo, nella scelta di un colore, nella scelta di un tipo di carattere e così via. Noi dal punto di vista visivo cambiamo la dimensione del carattere, mettiamo una parola in grassetto, dal punto di vista del calcolatore stiamo sostituendo a un numero, supponiamo 0 che indica testo normale, al numero 3 che indica testo in grassetto, e quindi il calcolatore internamente lavora solo e esclusivamente con queste codifiche di tipo numerico. Più, come dicevo, sono complicate le tipi di informazioni multimediali, più sono complicati i vari codici che vengono utilizzati, ma diciamo così, noi in questo corso ci fermiamo a questo punto e non ci interessa, non abbiamo purtroppo né il tempo né l'obiettivo di andare ad analizzare questo tipo di codifiche multimediali, ci fermiamo alle codifiche numeriche e qualche cosina sulla codifica testo, perché sono quelle che ci servono per capire i programmi che stiamo scrivendo e che stiamo utilizzando. Quindi con questo un po' si chiude l'argomento della codifica dell'informazione dal punto di vista di ciò che ci serve in questo corso di informatica, le prossime volte faremo qualche esercizio, vi metterò a disposizione una dispensina con un po' di esercizi simili a quelli che potete trovare all'esame su questa parte per capire il livello di approfondimento e il livello di difficoltà che noi ci aspettiamo da questo tipo di argomento ai fini dell'esame. Grazie e alla prossima lezione.